Settimana di cambiamenti al verdice della Guardia Costiera di Pesaro. Venerdì prossimo la Capitaneria di Porto cambierà comandante col passaggio di consegne tutto al femminile da Barbara Magro, che saluta in direzione Roma, a Claudia Di Lucca, reduce da esperienza Salerno, che si insedierà ufficialmente al comando al Porto di Pesaro. È stata un'esperienza meravigliosa da un punto di vista professionale e umano. Ho trovato una città accogliente, non ero mai stata nelle Marche se non in vacanza. Da un punto di vista istituzionale ho trovato una piena collaborazione e quindi il nostro lavoro è sicuramente più facile quando c'è dialogo tra le istituzioni. Per Claudia Di Lucca parte un lavoro chiamato a trattare importanti criticità del Porto Pesarese rimaste in sospeso da anni, dai problemi della Darsena ai lavori per la cassa di colmata e dragaggio alla patata bollente delle edificazioni sull'ex consorzio agrario.